Trovare un commissario per la sanità molisana dopo che i due precedenti hanno gettato la spugna a distanza di quattro mesi l'uno dall'altro, una missione assai difficile, trovarla ad agosto, quasi impossibile. Da Roma infatti ai colonnelli delle forze politiche di maggioranza che hanno chiesto informazioni in queste ore è stato risposto, non sarà una cosa rapida. In molti pensano possa essere la volta buona per il ritorno alla figura del presidente della regione, commissario della sanità, ma al ministero della salute non sarebbero d'accordo, non sarebbe questa la prima scelta di speranza. Il ministro però deve fare i conti coi motivi delle dimissioni di Floride Grassi, manager apprezzata e di successo a lui gradita che gli ha messo nero su bianco, senza risorse, umane principalmente ma evidentemente non solo, è impossibile portare avanti un incarico così complesso. Tema ben presente anche al governatore Donato Toma che alla domanda, se le chiedessero di prendere in mano le sorti della sanità molisana oggi cosa farebbe, risponde così, non accetterei la nomina senza garanzie su risorse e mezzi. E sarà che è l'opzione più semplice ma in queste ore negli ambienti circola la convinzione che la successione naturale potrebbe essere la nomina commissario di Anna Maria Tomasella, 57 anni, lunga carriera nella sanità veneta, sub di Floride Grassi che ha trattato in questi mesi principalmente i problemi organizzativi e contabili, tasti dolentissimi della sanità molisana. Lei sul punto non commenta, conferma che resta al suo posto come sub commissario finché, dice a primo piano molise, il mio contributo sarà ritenuto utile per proseguire il percorso intrapreso. Concorda con De Grassi su un punto però. La situazione che abbiamo analizzato è iniziato a gestire in questi quattro mesi di grande complessità, spiega Tomasella, e prevede di intraprendere una serie di azioni che non possono essere improvvisate. Il riequilibrio economico e finanziario dei conti sanitari è solo l'indispensabile premessa per un rilancio dell'assistenza in questa regione. È evidente, conclude Anna Maria Tomasella, che per raggiungere questi obiettivi si deve disporre di risorse adeguate.